Benvenuti a un nuovo video, sono OrkoVerde in questo video vi farò vedere una nuovissima glitch per avere busto totalmente invisibile al 100% con i guanti del completo tuta la motociclista per fare questo glitch avete bisogno di un amico inoltre questo glitch funziona solamente su Next Gen ovvero PS4, Xbox One e PC come prima cosa dovete andare su parti superiori maglie racing e dovete inossare una qualsiasi maglietta racing ovvero quelle magliette del completo tuta la motociclista con appunto i guanti da motociclista una volta fatto ciò dovete recarvi vicino al vostro amico il vostro amico dovrà diventare boss dovrà invitarvi alla sua organizzazione voi dovete prendere l'invito però non dovete entrare nella sua organizzazione prima che voi entrate nella sua organizzazione il vostro amico dovrà accedere al servizio SecuroServe completi da CEO e dovrà indossare il completo da CEO il Playboy ovvero quello con la giacchetta rossiccia una volta fatto ciò voi dovete confermare l'invito che vi ha inviato al vostro amico per partecipare alla sua organizzazione quando entrerete nella sua organizzazione il vostro personaggio indosserà automaticamente il completo da CEO texano o comunque sia da cowboy a questo punto il vostro amico dovrà su completi CEO scorrere tutti i completi da CEO fino ad arrivare a nessun completo da CEO o comunque sia no quando sarà su nessun completo da CEO dovrà premere una volta la freccia sinistra e una volta la freccia destra per cambiare un solo completo da CEO e ritornare su no o comunque sia nessuno una volta fatto ciò avrete il completo sempre da texano o comunque sia da cowboy a questo punto dovete aprire il menu interazione andare su stile accessori guanti a questo punto dovete premere una sola volta la freccia sinistra su guanti per cambiare un solo guanto ripeto verso sinistra una volta fatto ciò il vostro amico dovrà chiudere il menu interazione dovrà chiuderlo dopodiché dovrà riaprire il menu interazione riandare sull'applicazione boss sicuro serve gestione stile completi da CEO e dovrà premere due volte la freccia sinistra e due volte la freccia destra per cambiare due completi da CEO a questo punto automaticamente vi espellerà dal menu accessori del menu interazione voi dovete premere una volta X su accessori dovete andare su guanti a questo punto dovete scorrere tutti i guanti verso sinistra fino ad arrivare ai guanti del completo tutta la motociclista della parte superiore quando sarete arrivati ai guanti da motociclista di quella parte superiore dovete premere una volta la freccia sinistra per andare su guanti da chirurgo bianchi dovete lasciare i guanti da chirurgo bianchi dopodiché dovete andare su catenine premere una volta la freccia sinistra su catenine per cambiare una sola catenina a questo punto ragazzi quando avrete cambiato la catenina dovete andare verso il basso di nuovo su guanti e a questo punto dovete premere una sola volta la freccia destra questa volta la freccia destra per cambiare un solo guanto a questo punto ragazzi il glitch dovrebbe esservi uscito avendo così il busto al 100% invisibile con i guanti da motociclista e oltre al busto ragazzi mi sono dimenticato avrete anche le braccia invisibili quindi busto più braccia invisibili quando avrete completato il glitch potete abbandonare l'organizzazione del vostro amico e salvare il completo tra i completi salvati potete modificare anche il completo potete rimuovere la catenina potete rimuovere i pantaloni o comunque sia indossare altri tipi di pantaloni maschere, cappelli eccetera eccetera senza che il busto e le braccia invisibili compresi i guanti da motociclista scompariranno potete modificare come volete il personaggio tranne la parte superiore e i guanti questo glitch è molto easy e veloce da fare dovete solamente capire il procedimento che dovrà eseguire il vostro amico dato che non ve l'ho mostrato nel video però ve l'ho spiegato per bene io quindi mi raccomando state attenti più che altro a ciò che vi ho spiegato io detto questo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like, un commento iscrivetevi al canale condividete questi video se vale social network e da orcumere tutto il cinema per il suo video bella